salve a tutti allora abbiamo fatto una domanda a cui io ho già risposto a fabio ma mi sembrava interessante dirlo anche in video lui mi ha chiesto se prima di una partita o di un torneo bisogna quanto bisogna scaldarsi prima di cominciare a giocare sostanzialmente questo era il succo della domanda allora dovete trovare voi il punto giusto del vostro riscaldamento prima di giocare diciamo che io quando scaldarmi la prima cosa che devo che faccio e tiro al burrosso quando mi vanno tutto 3 sul burrosso insomma 25 insomma 25 50 insomma sono pressoché pronto un tiro anche al 3 per vedere se sono bilanciato se sono giusto in linea col bersaglio quando ne metto tutte e tre in fila dritte sul 3 vuol dire che sono giusto perché se tiro al 3 becco magari il 19 di solito becco se sono fuori becco più sul lato sinistro che non sul destro quindi devo trovare l'angolazione giusta del piede per quando trovo tiro al 3 e sono giusto tiro al bull e mi vanno dentro comincio e ci vogliono 15 frecce per sistemare tutto diciamo all'incirca poi comincio a tirare al 20 faccio un paio di tiri al 20 poi facilmente 19 18 per vedere se tutto calibrato diciamo che su 30 30 40 frecce più o meno io sono pronto a giocare ma poi dipende da persona a persona cioè nel senso che magari qualcuno ha più bisogno o bisogno di più qualcuno ha bisogno di meno insomma dovete trovare voi il punto giusto in cui riuscite a a tirare nel miglior modo quindi questo mi sembra la cosa più quando si tene all'allenamento prima di cominciare all'allenamento vero e proprio scaldate il braccio c'era un video su internet che ho visto di un inglese che spiegava come si giocava e lui per scaldarsi tirava più o meno una mezz'oretta sul bull senza sforzare e guardando in giro soltanto lasciando andare il braccio non gliene fregava niente di dove andava la freccia non gli fregava niente di mirare ma proprio fare solo il movimento tirava tranquillo senza pensare cercando di trovare di trovare il rilassamento la tranquillità prima di giocare questa cosa l'ho fatta la faccio anch'io quando sono magari un po' nervoso o sono un po' indolenzito tiro senza guardare dove va ma frega tiro cerco di rilassarmi trovare un momento di rilassamento ma questo è quando magari sono nervoso o sento che sono un po' indurito quindi tiro senza pensare e quando sento che mi sento un po' meglio comincio a fare quello che ho detto prima questa è una buona cosa diciamo che quando sei a fare un torneo non hai tutto questo tempo perché poi nei tornei ci sono forse se ci va bene due o tre bull liberi perché poi quando giocano è tutto pieno non hai non riesci a scaldarti come vuoi perché magari sono tre quattro persone in fila che tirano quindi è un po' difficile ogni tanto se riesco mi scaldo prima del tipo se sono se ho un torneo o una partita vicino a casa tiro una mezz'oretta a casa prima di partire perché poi anche quando si va in partita arrivi lì e sono tutti che tirano quindi non è che poi altra sera che abbiamo fatto l'ultima partita di campionato tutti i tuoi compagni tirano quindi devi aspettare ogni tiro passano tre minuti da un tiro all'altro ancora un po' perché sono 4 o 5 in fila che tirano ed è difficile scaldarsi bene lì comunque tirate lo stesso senza cercando di rilassare il vostro braccio e la cosa più importante secondo me è cercare il punto giusto cioè l'inclinazione giusta per tirare giusto quindi tirare io tiro sul 3 magari voi tirate sul 20 ma l'importanza del 3 l'ho già spiegato in un video tanto tempo fa dove c'era questo giocatore che io facevo l'arbitro questo giocatore tirava sempre al 3 nel riscaldamento prima della partita al 3 3 3 le metteva tutte in fila sul 3 no più dritte erano sul 3 cioè così no più dritte erano sul 3 e mi chiedevo ma cosa cacchio fa questo inizia la partita ha tirato 60 manetta poi ho saputo che questo 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 signore di cui non mi ricordo il nome ma ho saputo che è stato campione italiano 10 anni fa 15 anni fa 15 anni fa adesso non so esattamente e nonostante avesse un problema alla gamba perché mi pare che era stato operato non so bene quindi aveva un po' di problemi tirava molto forte e quindi questa cosa poi l'ho capito cioè lui trovava l'inclinazione giusta e essere perfettamente al centro quando era perfettamente centrato come le sue frecce andavano perfettamente dritte sul 3 lui era a posto poi alzava il braccio e cominciava a tirare a 60 e vi assicuro che ne ha tirato una slavena quella sera ha giocato molto bene avendo anche la partita quella sera quindi questa è una cosa importante poi ognuno di noi trova il momento giusto deve sentirsi perché non siamo tutti uguali quindi ognuno di noi deve trovare il suo modo per approcciarsi per arrivare alla partita nel miglior modo possibile mi ricordo l'anno scorso se non sbaglio o due anni fa ho fatto il torneo singoli della serie A di soft io sono arrivato stavo parlando pensavo fosse più in là all'inizio della partita stavo parlando mi ero un po' distratto e mi chiamano a giocare io ho fatto la prima partita che avevo il braccio duro come un e ho perso la partita la prima poi sai che si perdono i due poi sono andato avanti sono arrivato fino quasi alla fine però la prima partita è stata un incubo perché il mio braccio non era per niente pronto a giocare quindi è importante scaldare il braccio cominciare a pensare mentalmente a quello che bisogna fare questa è una cosa molto molto importante quindi cercate di trovare il vostro modo migliore per fare questo l'altra sera abbiamo fatto martedì abbiamo fatto l'ultima partita di campionato abbiamo vinto con il banda rosso volevo fare il video con la maglietta nuova ma lo farò insomma nei prossimi giorni siamo arrivati quarti a fine del campionato abbiamo migliorato dall'anno scorso siamo sempre rimasti siamo sempre in serie A sono contento perché tutto sommato è andata bene abbiamo perso tre partite alla fine della fiera di cui una partita che abbiamo perso io non c'ero quindi una l'abbiamo persa ai leg cioè eravamo 10 a 10 abbiamo perso per due leg credo uno o due non mi ricordo due a uno quindi alla fine insomma siamo arrivati quarti perdendo tre partite una sola partita l'abbiamo persa proprio male è stata una serata tremenda ma ho giocato male pure io quindi un male tutto insomma per la seraliere così comunque tutto bene fondamentalmente adesso ci sarà finalmente un po di tranquillità io ho già ricominciato ad allenarmi sia ieri stamattina mi sono allenato un po però ho visto che facendo mezz'ora di allenamento già ho migliorato subito cioè ho fatto praticamente mezz'ora mercoledì mezz'ora oggi e già oggi ho chiuso due volte in 14 una volta in 15 quindi diciamo che mi basta poco per ripigliare un attimo il senso di quello che deve essere non facendo nulla sono un po nella balia no però diciamo che con la mezz'oretta al giorno mi fa già giocare molto meglio quindi cercherò di allenarmi cercherò di tornare sull'ora al giorno in maniera da tornare a essere più forte possibile perché il campionato di stile ha bisogno che io tiri forte quindi mi toccherà assolutamente riallenarmi ma insomma come avete già saputo insomma in questo periodo è stato un po duretto insomma perché ho fatto un sacco di cose e non sono riuscito ad allenarmi niente zero neanche fare una partitina poi mi rendo conto che allenandomi perché ogni tanto faccio magari qualche qualche leg fare qualche leg non mi aiuta a giocare bene allenandomi cioè facendo diciamo allenamenti mirati diciamo che fare al 33 power training fare cose diverse dal 501 anche combinato clock che ho fatto che poi devo farlo ancora al video l'altro giorno l'avevo fatto martedì mi pare e da mia partita mi ero dimenticato di schiacciare la tele telecamera e quindi non ho registrato quello che ho fatto non avevo tempo di rifarlo comunque devo fare una adesso vado in ferie quindi avrò più tempo per farlo e così vi farò vedere quanto aiuta questo fare questo senza avere la paranoia del 501 mi aiuta molto poi a fare il 501 molto meglio quindi è fondamentale fare cose diverse e poi fare la partita che non fare la partita e basta poi magari sarà una cosa mia questo non lo so però ritengo che sia un allenamento molto perché la testa non è come posso dire la parola giusta la testa non si mette solo su questa cosa solo sul 501 quindi ah devo chiudere in 15 poi comincia ad avere la paranoia si chiude in 27 invece se tu fai gli allenamenti che non distaccano da tutto questo tu ti alleni fai tutti i trick che vi hai fatto vedere tutte le cose poi arriva il 501 che sei molto più tranquillo fondamentalmente e tiri l'inferno e tutto quello che tu hai fatto nell'allenamento lo usi in partita e diventi sei molto più forte non c'è un cazzo da fare a me no a me funziona così poi non lo so poi magari ci sono giocatori che giocano da a febbraio saranno esattamente il mio terzo anno cioè comincerò il terzo anno di gioco sono esattamente tre anni che gioco da febbraio perché ho cominciato nel 2016 siamo nel 2019 quindi saranno tre anni che gioco in tre anni diciamo che insomma ho fatto un sacco di cose io vedo molti giocatori che hanno moltissimo cioè quando magari stai insieme vicino a personaggi come come tanti che abbiamo qua che parla ti ricordi nel 2000 quando abbiamo fatto nel 2002 quando ho fatto cioè sono tre anni da raccontare che cacchio vi racconto cioè quindi hanno un'esperienza hanno giocato talmente tanto che è un po' diverso la questione quindi molti più anni che tirano confronto a me confronto a tanti altri però anche l'altro giorno al torneo di giudio ho visto molti giovani che stanno salendo cosa che non avevo visto prima a parte a Milano ho visto Mattia che era Pinelli che ha giocato molto forte stavolta ho visto più di qualcuno che giocava forte che era più giovane non erano i soliti noti i soliti forti quindi bene insomma dai è giusto che ci sia anche un ricambio prima o poi perché se no quindi bene dai sono contento beh oggi vi ho fatto a lunga ho raccontato un po' di questa cosa niente vi saluto grazie a tutti i nuovi iscritti iscrivetevi ancora dai ci arriviamo a sto 1001 che sarebbe carino saluto a tutti